Vi presento il personaggio, lo so che voi amate il Menghi, vi presento il personaggio, vi presento il barone. Ragazzi vi voglio dire solo una cosa, la gente vi chiede sempre, preferisci andare in giro con la Lamborghini o avere una bella figa? Io preferisco andare in giro con la macchina, perché? Quella viene di conseguenza ragazzi, fidatevi, certo. Come la Lambo? Da paura, imbarazzante ragazzi, imbarazzante la Lambo. Modello? Huracan performante, verde e mantis. Porco Dio. È fantastica, è nel destino. E se ti chiedono che lavoro fai? Cos'è il bambino? Il bambino gli ha chiesto che lavoro fai? Il bambino mi ha chiesto se era un calciatore, gli ho detto no, non te lo dico. No, dimmelo al papà, vuole sapere così. E meglio che non lo sai, purtroppo si è spaventato, non volevo spaventarlo, però questo è stato il destino. Senti Carletto, tu sei istruttore, a parte che sei interista, diciamolo già. Certo, sempre, nero-azzurro, sempre. Quindi, andiamo nel bunker, quindi io volevo parlare con Carletto che è stato istruttore anche mio per poco tempo, perché poi io avevo necessità di fare più massa, ma lui è istruttore di kickboxing e arti marziali. Difesa personale. Difesa personale. Si sa mai nella vita. Anche in strada, a caso. Sì, 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 sì. Perché la palestra, però in strada, se si ha paura, bisogna invece avere fiducia in se stessi. Chi sbaglia paga. E anche per bambini è fatto, per ragazzi, ragazze. È importante la difesa perché... Fondamentale, ti dà fiducia in te stesso. Capitano qualche questione, capita sempre. Con la gente che c'è in giro, capita, ovvio che capita prima o poi. Qual è la prima regola? E quando succede, PAM! Secco, non ce n'è. Prima regola è sempre stare in piedi te. Sì. Sì, certo. Meglio un brutto processo, più un bel funerale. Mai ciappai. Mai ciappai. Meglio mai prenderle. Quindi, l'arte marziale che preferisci qual è, però? Difesa personale. Difesa personale. Sì. Ma anche con le penne, con i pezzi, con tutto. Sì, sì, perché... Com'è il sbam? Sbam! Secco, perché in strada può succedere di tutto. Qualsiasi cosa... Ma è il vero... Spalle al muro, se sono in 2-3 e via. Il primo bisogna fargli male subito. Male secco, deve capire. Gli altri si devono spaventare. È così la regola. Anche quando ti affronta in 2-3, uno gli dici, tu vai giù di sicuro, gli altri non lo so. Però devi essere cattivo quando lo guardi. Sì, come la fai? La faccia? Così. Così. Menghi ha detto, Menghi ha fatto roba e ha detto che lui 1 vs1, 1 contro 1. Lui diceva che una volta 1 anche vs5 è ancora... Oggi è invecchiato un 1 vs3, ce la può fare. A meno che non arriva Mike Tyson. Eh, ma a volte non è detto che chi vince è il più forte. Ma anche un po' a fortuna. Ma la tecnica conta, perché io sai, non lo dico, perché io voglio tornare... Sì, 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 fondamentale. La tecnica, come nel calco. Certo, conta, sì. Sì, perché hai fiducia in te stesso. Sai muoverti. Poi l'istinto, però... Ti sai muovere, è importante. Prima roba è mettersi di fianco, è vero? Per proteggere gli organi. Eh, certo, certo, se no spalle al muro. L'importante è che hai di fronte la situazione, devi capire la situazione com'è e dopo non devi avere paura. No, perché adesso, a parte scherzi, è diminuito il discorso, non so, mafioso, eccetera. Però sono aumentati i reati in strada. Eh, lo so. E noi, tu che hai due figlie, no. Ah, sì. E su quello non si stanno neanche a pensare, processo, non processo, guai, se arrivi a casa mia figlia, metto quello lì, ma non lo fa più, te lo dico io. Però tu sei andato a controllo, questa scena è bella, la raccontiamo. Quando ti sei presentato al bar per vedere, perché è così che devono fare i genitori. Sempre col sorriso, col sorriso, però lo guardi in faccia. No, beh, è successo che l'altro mi ha raccontato che... Ah, quella è la nipote. Devi controllare comunque, però sempre col sorriso, non è che vai là a fare... Certo, se no ti rendi antipatico e non va bene. L'importante è che lo dici bene e loro devono capirlo. Cioè, tu sei andato al bar? Tranquillo. No, io tranquillo, dopo c'era lì il mia nipote, insieme a due sbarbatellini così, avevano già i piedi sul tavolo, già quello d'occhiato, che non andava bene. Quando gli ho chiesto, i ragazzi qua fanno i bravi. Lei mi fa, eh, e uno di questi fa, mica tanto. Fulminato solito. Prima di tutto ti raggio i piedi dal tavolo, di ok, ma che cazzo sei parato? Non volevo. Perché il rispetto è fondamentale. Il rispetto, il rispetto. Il rispetto, il rispetto. Se vuoi dire le cose sempre con insolvimento, però devono capire il messaggio. E poi l'ha detto, tu sei suo fratello. Sì, no, la gente pensa che sono fratello, invece sono papà. È diverso. Comprimento. Lui ha un anno più di me e ne dimostra diecimi di me. Barone, ti voglio ospite perché poi io torno con te a fare le arti marziali. È un piacere col Fabio. Fabio, grande amico, numero uno. Grazie, Carletto. Ci manca a me. Numero uno. Quando l'incontro, mi fermo sempre e purtroppo, ovviamente lui è un sangue zero, perché gli amici moziani sono acqui, di lui è un toro, io sono… faccio fatica con la massa, ma io torno a fare… Bravo, mai mollare. Peccato che ci hanno chiuso la palestra e quella la non lo dico io. Ne apriremo da qualche altra parte, mai mollare. Ne apriremo un'altra. Massimo, andiamo nel bunker. Certo. Un saluto al bunker. Carletto il Barone, numero uno indiscusso. Dai ragazzi. Ciao a tutti. E lo riporto il Carletto.